Sabato alle ore 15 veniamo dalla radiocronaca di Napoli-Roma. Iniziamo alle 14.30 fino alle 14.55 con il pre-partita di Napoli-Roma. Poi dalle 15 alle 17 la radiocronaca di Napoli-Roma e dalle 15.10 alle 17.30 il post-partita di Napoli-Roma. Metteremo i link della partita e del post-partita su Facebook, Twitter e il canale Telegram. Ascoltateci!